Parigi si stringe intorno alle sue vittime e alle persone in difficoltà, in una rete di solidarietà che cancella per un giorno la sua reputazione di città freba e distaccata. Da subito i parigini hanno aperto le loro porte, fornito informazioni, aiutato nelle ricerche e nei soccorsi, catene di messaggi, passaparola in ogni forma per tentare di mettere tutti al sicuro, quando ancora non era chiaro cosa stesse succedendo. L'ondata di solidarietà ha coinvolto anche i centri di donazione del sangue. L'appello a donare è stato uno dei primi diffusi dalle autorità dopo gli attacchi, visto l'elevatissimo numero di feriti. Intanto, l'attenzione si sposta progressivamente sulla ricerca dei dispersi, con due pagine Twitter create apposta per aiutare chi cerca parenti e amici, e decine di migliaia di messaggi sui social network. Rilanciati anche da sconosciuti mossi solo dal desiderio di dare il proprio contributo.